Buongiorno a tutti, ho finito adesso di parlare con Angelo Natarelli di Pescatori a Tavola e vi comunico che nel mio piccolo, il 15, fermiamo la barca e se ne andiamo a Roma se ne andiamo a Roma perché? Perché sosteniamo gli agricoltori, anche noi pescatori sono stati, grazie ai pescatori hanno fermato carichi in Puglia di queste farine di grilli e questa merda che ci volete fare mangiare, scendiamo in piazza perché vogliamo portare in alto la bandiera del pescato locale perché tutta la merda di importazione che ci facevate mangiare, come filetti di pangasi tutta sta roba che poi in poco hanno svelato il mistero tra mercurio e merda varia adesso lo servite dentro le menze dei bambini, degli ospedali e in quelle menze ci stanno pure i miei figli e il discorso sarebbe troppo lungo però vi dico che in piazza non ci sono mai sceso sempre naturalmente in maniera pacifica ci saranno 300 pescatori a Roma e io farò parte di quei 300 pescatori già altre persone del mio posto, chiamiamola marineria, hanno aderito e niente, ci andiamo a far sentire quindi insieme agli agricoltori ci stiamo pure noi pescatori Angelo, se avete mer 15 a Roma beh venimo a ricordare che sta merda non è questa, capito? ma bensì è questa guardate bene e i filetti che venete per Cernia, questi qua a Persico non è questa, capito? questo è il pescato nostro ma bensì è questa la merda che vi fanno mangiare e chi è qua allora andiamo a dire le cose come stanno viva il pescato locale allora andiamo a dire le cose come stanno